Dopo aver parlato negli altri due appuntamenti di famiglia e di figli, delle dinamiche personali e di come aiutare i ragazzi a crescere in un periodo difficile, in questo nuovo appuntamento di Tutto concorre al bene si parlerà di come seguire i figli nell'educazione al sacro, dinamica fondamentale per l'essere umano, con l'obiettivo di sostenere i genitori nel compito educativo, soprattutto in questo tempo non facile. Ne abbiamo parlato con chi ha organizzato questa serie di appuntamenti. Educare al sacro è vedere come questo tempo, non facile, ripeto, possa essere un'occasione per raccontare anche cose belle, per raccontare la fede più che mai perché quando siamo a contatto con la nostra fragilità siamo in realtà davanti ad una porta straordinaria che si apre per comprendere anche come vivere la fede e che cosa vuol dire essere figli di Dio. E Zio Aceti, perché è stato pensato questo ospite e quali sono le sue caratteristiche? Innanzitutto per la sua preparazione, perché penso che nel suo campo sia uno tra i più preparati e anche per il suo stile porta veramente tanta allegria e tanta simpatia e in questo tempo forse più che mai ce n'è di bisogno. Grazie. Grazie.